Prima di continuare, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Scossone nella Nazionale. Tonali e Zaniolo nel vortice delle scommesse, abbandonano il ritiro dopo il recente caso che ha coinvolto Niccolò Fagioli. Le forze dell'ordine fanno irruzione nel ritiro della Nazionale a Coverciano per interrogare Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo riguardo a un presunto coinvolgimento in un caso di scommesse. I nomi dei due azzurri sono stati tirati in ballo dall'agente fotografico Fabrizio Corona, che a sua volta è stato convocato dalla polizia come persona informata sui fatti. Il comunicato ufficiale della FIGC ha confermato l'apertura di un'indagine da parte della Procura di Torino, notificando atti indagine a Tonali e Zaniolo. La decisione della federazione è stata chiara, lasciare il ritiro per tutelare i giocatori, affermando che non sono in condizione di affrontare gli impegni successivi. Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha sottolineato la rilevanza della correttezza dei comportamenti nel calcio, dichiarando. C'è una partita più importante da giocare delle qualificazioni ed è quella della correttezza dei comportamenti. La ludopatia non è un problema calcistico, ma una patologia sociale. Credo sia stata opportuna la scelta di mandare a casa i ragazzi, anche a loro tutela. In un'atmosfera carica di tensione, le forze dell'ordine hanno lasciato Coverciano dopo aver consegnato gli atti di indagine. Tonali e Zaniolo, per il momento, sono ancora sul posto, ma la FIGC ha autorizzato il loro ritorno alle rispettive destinazioni. La notte svelerà ulteriori dettagli su questa vicenda che agita il mondo del calcio italiano.